castamara e castori d'indopanare ragazzi non vuol dire natale dobbiamo essere tutti più buoni 62 62 9 col tetto sopra io ho fatto cinquina 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 io controllerei vabbè ti dico i numeri 78 52 50 52 32 il 9 col tetto e 25 25 non è uscito come non è uscito 25 non è uscito sbagliato 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 ho sbagliato ragazzi come cortesia fammi una cosa proprio propiziatoria fammi uscire il 34 l'ultimo numero che faccio una grado 50 euro e anche stasera ma non riporto di schiavina cassa male castamara cassa male castamara quanti numeri fantasci orazio aspetta aspetta è uscito il 37 il 18 ma come 37 e 18 erano 5 e 6 numeri si sono andati qua facciamo una cosa ragazzi annulliamo la partita orazio orazio il fratello e tu quanti ne conosci Grazie a tutti.